Ciao a tutti, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto nuove anticipazioni di Terra Amara, in particolare andremo a scoprire insieme cosa succederà nelle puntate che vedremo in onda il 29 e 30 agosto. Saranno puntate ricche di colpi di scena quindi rimanete fino alla fine. Vedremo Zuleyha che si avvicina a Demir mentre lui è immerso nel pianto, scioccato dalla tragica morte di sua madre. Zuleyha cerca di consolarlo, rassicurandolo che, con il tempo, il dolore che prova si attenuerà, ma mai svanirà del tutto. Gli fa notare che tornerà ad essere il Demir Yaman in cui la gente crede e su cui si fida. Un uomo che può sempre contare sull'aiuto degli altri. Con delicatezza, lo accarezza, e lui ricambia con un abbraccio, confessandole che finché avrà lei, non avrà bisogno di nient'altro, dichiarando il suo amore profondo. Zuleyha si commuove tra le sue braccia, ma gli dice che il loro matrimonio è diventato poco più di una formalità. Gli confessa che il suo cuore appartiene a un altro uomo. Demir le risponde con gentilezza, assicurandole che non deve temere lui, poiché nella sua vita ha amato solo lei e sua madre. Zuleyha, tuttavia, si ritira nella camera e chiude la porta. Lui le assicura che non entrerà senza il suo consenso, ma la prega di non chiudere la porta, ribadendo che lei è ancora la sua moglie. Dall'altro lato della porta, Zuleyha, ancora in lacrime, risponde che non gli appartiene più, né con il cuore, né con l'anima, né fisicamente. Demir, disperato, le dice che senza di lei non gli rimarrà nulla, poiché è niente senza di lei. Zuleyha rimane in silenzio, e lui si siede a franto dietro la porta chiusa. Prima di proseguire se il video è di tuo gradimento, lascia un mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ripartiamo. Mujaygan porta una tazza di caffè a Fikret e gli confida di non riuscire a dormire a causa del fatto che Ilmaz ha firmato una confessione per incastrare Demir e farlo finire in prigione. Fikret fa notare che Ilmaz ha firmato per proteggere Mujaygan, ma lei ribatte che non conosce la vera malvagità di Demir. Nonostante le loro divergenze con Zuleyha, Mujaygan non ha mai approvato le azioni di Demir, come separare Zuleyha dai suoi figli e cacciarla di casa, eppure Ilmaz ha lasciato che Demir prendesse decisioni per il destino di sua moglie. Fikret cerca di giustificare le azioni di Ilmaz, ma Mujaygan ammira la sua neutralità e gli esprime gratitudine per aver ottenuto quel documento così importante. Ilmaz torna a casa con Çetin e, osservando Fikret vicino al recinto dei cavalli, dice a Çetin che all'inizio sospettava di lui, ma ora crede che sia una brava persona. Tuttavia, avverte che Fikret sembra nascondere un segreto. Il giorno successivo, Demir dice a Zuleyha che, anche se lei non lo ama più, è comunque sua moglie e lui ha bisogno di lei. Le promette che non entrerà nella sua stanza senza il suo consenso e che non la toccherà, ma che l'aspetterà fino alla fine dei suoi giorni. Zuleyha risponde freddamente di non aspettarla. In tribunale, si discute dell'accusa contro Sevda. Demir è presente con il suo avvocato, mentre Fikret è nella sala d'udienza. Sevda entra scortata da due gendarmi e il giudice richiede l'ergastolo per lei. L'avvocato difensore ribadisce l'innocenza di Sevda e presenta dei documenti a sostegno della sua tesi. La corte inizia quindi a esaminare le prove. Nel tribunale, un testimone conferma di aver visto Sevda nella sua casa all'ora del delitto. Il giudice, ritenendo sufficienti le prove presentate dalla difesa, scagiona Sevda dall'accusa di omicidio e ordina il suo rilascio. Fuori dall'aula, Demir esprime un senso di sollievo per la soluzione di Sevda, ma Fekeli condivide la sua delusione nel sapere che l'assassino di Ankar è ancora libero. La rabbia di Fekeli è palpabile, ma Demir lo rassicura che troveranno l'assassino e lo faranno pagare per ciò che ha fatto a sua madre. Fekeli accetta e i due si stringono la mano. Rimasto solo, Demir attende Sevda e le chiede scusa. Ma lei, delusa, gli domanda come abbia potuto pensare che fosse lei l'assassina di sua madre, considerando che la conosce da quando aveva 17 anni. Lo rimprovera per non averla difesa. Demir ammette la sua confusione. Ma lei gli dice che non vuole più vederlo. Ilmaz ha un incontro con Zuleya e la rimprovera per organizzare le veglie di preghiera per Ankar e le chiede di scappare con lui immediatamente. Lei risponde che non sono trascorsi neanche sette giorni dalla morte di Ankar e non può semplicemente lasciare tutto. Ilmaz le chiede se ancora vuole andare via con lui, ma lei gli risponde che prima devono trovare una soluzione per Kerem, poiché non vuole che sia separato da sua madre. Ilmaz obietta che, tuttavia, lei ha lasciato Demir senza Leila. Zuleya gli risponde che Demir non è una madre, ma un padre che ha fatto soffrire la madre dei suoi figli. Demir si reca a casa di Sevda, bussa alla porta e la chiama, chiedendo di essere ascoltato. Tuttavia, Sevda non risponde. Quella sera, Demir racconta a Zuleya che Sevda non vuole vederlo e lo accusa di non averla difesa. Zuleya risponde che Sevda ha ragione, poiché lui l'ha giudicata colpevole fin dall'inizio. Demir spiega che era confuso dopo aver visto i gioielli di sua madre trovati a casa di Sevda. Nel frattempo, nel paese, un gruppo di uomini esprime la loro indignazione nei confronti di Sevda, accusandola di aver distrutto la famiglia Yaman. Affermano che Ankar li ha sfamati tutti e non permetteranno a Sevda di vivere nella loro città. Nel frattempo, Sevda sta facendo le valigie, esprimendo il suo dolore perché aveva amato Demir come un figlio, mentre lui no. Il gruppo di uomini rumoreggianti si raduna sotto la casa di Sevda e le urlano di lasciare Kukurova, accusandola di aver distrutto la famiglia Yaman. Lanciano sassi contro la sua porta e incendiano una torcia nel suo cortile. In quel momento, Zuleya arriva per fermarli, spara un colpo in aria e minaccia il capobanda con una pistola per allontanarlo dalla porta di Sevda. L'uomo afferma che Sevda ha ucciso Ankar, ma Zuleya ribatte che è stata giudicata innocente. Ma l'uomo, sostenuto dagli altri membri del gruppo, insiste con Zuleya, affermando che non vogliono Sevda Kukurova. Zuleya ribatte, sostenendo che lui non ha il diritto di decidere chi può vivere lì. Poi, l'uomo le chiede perché difende l'amante di Adnan, e Zuleya risponde che la relazione tra Adnan e Ankar non riguardava loro. Lei fa notare che molti di loro hanno anche amanti, quindi non hanno il diritto di interferire o giudicare. Alla fine, il gruppo di uomini si disperde. Zuleya cerca di confortare Sevda, che le confessa di essere spaventata e di ammirare il suo coraggio. Zuleya le assicura che non saranno più disturbate e le dice che Demir l'ha mandata da lei. Quando Zuleya torna con Sevda alla villa, Saniai rimane sconvolta e si chiede come Zuleya possa portarla a casa della sua signora. Quando Zuleya accompagna Sevda da Demir, quest'ultimo le chiede scusa per le accuse infondate. Sevda risponde che non è arrabbiata con lui ma delusa dai suoi sospetti. Demir le chiede nuovamente perdono, e Sevda lo abbraccia piangendo. Saniai è devastata e si rivolge a Ghaffur, affermando che Zuleya è la ragione per cui Ankar non ha mai smesso di soffrire e che, invece, Zuleya l'ha portata nella villa. Ghaffur risponde che Zuleya non ha ucciso Ankar, ma Saniai ribatte che si tratta di una questione di onore, poiché lei era l'amante di Adnan Yaman, e Ankar ha sofferto per anni a causa di quella donna. Anche Ghaffur è profondamente addolorato per l'affronto inflitto ad Ankar. Zuleya racconta a Demir cosa è successo, e Sevda gli dice che ha una moglie molto coraggiosa che l'ha difesa. In quel momento, la difesa entra, scambiando Sevda per un'amica di Ankar e abbracciandola. In seguito, Demir visita il cavallo di Ankar e si domanda come faranno a vivere con tutto quel dolore. Demir abbraccia il cavallo e ricorda i momenti condivisi con sua madre. Nel frattempo, Fekeli si trova sulla tomba di Ankar e, immerso nel dolore, ripesa il sa i momenti trascorsi insieme. Innaffia la terra sopra la tomba e accarezza la sua lapide. Poi, Fekeli si reca sotto casa di Ankar, come faceva sempre, e osserva le finestre. Nel frattempo, Sevda è con Zuleya e le confessa che avrebbe preferito non innamorarsi mai di Adnan e sa di aver ferito profondamente Ankar molte volte. Sapeva che Adnan era sposato e aveva cercato di respingerlo, ma lui l'aveva conquistata con il suo corteggiamento. Sevda si avvicina al ritratto di Ankar e le chiede perdono. Il giorno successivo, Zuleya e Sevda si ritrovano a colazione, servite da Saniai, che si sente molto a disagio e non fa mai contatto visivo con Sevda. Durante la colazione, Zuleya informa Sevda che Demir è in procura per cercare di trovare l'assassino di Ankar. Quando Saniai ritorna in cucina, è nervosa e scoppiare a piangere. Si lamenta che Demir e Zuleya non hanno coscienza né vergogna, poiché non sono trascorsi neanche sette giorni dalla morte di Ankar e hanno portato Sevda nella villa. Gulten abbraccia Saniai per cercare di consolarla. A quel punto, Rashid racconta che un gruppo di uomini ha cercato di dare fuoco alla casa di Sevda. Terminano così le anticipazioni di queste puntate. Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, e se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi al canale, per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!